Quanto sta accadendo in Ucraina ha fatto capire l'importanza per i medi ad avere inviati sul campo, il classico inviato di guerra. Ed in effetti, da quando è cominciata la guerra in Ucraina, giornali e tv di tutta Europa hanno rimesso al centro del racconto i reporter di guerra. Cos'è e cosa fa un reporter di guerra? È un giornalista che deve provare a raccontare il più possibile, nella maniera più approfondita possibile, quello che sta accadendo in un teatro di guerra. È un giornalista che ha un punto di osservazione molto vicino a eventi pericolosi e deve sapere gestire quei momenti, quelle ore e quei giorni per raccontare a chi è distante quello che non può vedere e chi altrimenti non potrebbe conoscere. È un giornalista, giunto in un luogo di conflitto, deve imparare a conoscere rapidamente il territorio e capire come muoversi in una situazione d'emergenza. Tra i tanti inviati di guerra c'è anche Enzo Arceri, giornalista nato e cresciuto a Vibo Valencia, oggi inviato Rai e di recente rientrato dall'Ucraina. Il Rotary Club di Vibo Valencia, presieduto da Chietti De Luca, ha colto un suo momento di pausa per riportarlo nella sua città e coinvolgono in un incontro dal significativo titolo Ponti di Pace, durante il quale si è provato a far capire quanto delicato e difficile sia questo compito, provando anche ad analizzare gli scenari attraverso le relazioni dell'economista Damiano Silipo e del sociologo Ercole Giap Parini, entreranno i professori ordinari presso l'Unical che hanno trattato questi risvolti dal loro punto di vista, introducendo così il coinvolgente racconto di Enzo Arceri, inviato per il giornale Radio Rai. Un importante riconoscimento del Rotary per il tuo lavoro di corrispondente di guerra? Sì, è estremamente importante per quanto mi riguarda, anche dal punto di vista emotivo, simbolico. Mio nonno che è stato tra i fondatori di questo club ha ricevuto la Polaris Fellow prima di me e ha un significato di continuità, di impegno, che poi peraltro è anche il significato stesso del Rotary, è qualcosa che vedo come una specie di riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto, che continuiamo a svolgere e che è particolarmente impegnativo. Ma tu hai la storia di un ragazzo vibonese che qua fa gli studi e poi parte per questa grande avventura diventando un inviato di guerra? Sì, impegno, fatica, soprattutto passione, fortuna e opportunità che mi sono state date. Il ruolo del giornalista affascina sempre i giovani, cosa suggerire loro? È difficile, la nostra categoria, l'editoria attraverso una fase estremamente complicata come a tutti noto, d'altro canto coloro i quali hanno effettivamente la passione di svolgere questo mestiere, che vogliono effettivamente impegnarsi, che avvertono la necessità, anche civica, di raccontare quanto accade per fare in modo che gli altri possano comprendere ciò che stia accadendo, per formarsi un'opinione, per essere consapevoli del mondo in cui vivono. Beh, vale la pena correre il rischio e affrontare le fatiche, le difficoltà, le frustrazioni, i fallimenti che inesorabilmente si incontrano lungo la strada. A Insorceri, il Rotary Club di Vipo Valenzi ha conferito il Polaris, massima onoreficenza rotariana, segno concreto della stima a lui riservata dal club, con questa motivazione, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto a promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo.